benvenuti in questo nuovo video dove parliamo di design dell'esperienza design dell'esperienza omnicanale che il nostro utente ospite e brand ambassador faranno durante tutto il ciclo di vita della nostra relazione parliamo di tre elementi dunque la relazione che dobbiamo creare con il nostro utente ospite e naturalmente brand ambassador l'esperienza che dovrà appunto vivere e in una maniera in qualche modo guidata ma soprattutto in una maniera bidirezionale ovvero da una parte ci saranno i contenuti digitali che andremo a creare per il nostro utente ospite dall'altra ci sarà un grandissimo ascolto attivo da parte della struttura che permetterà di recuperare tutta una serie di informazioni legate all'esperienza proprio dell'ospite stesso e dunque di come viene percepita la nostra struttura attraverso occhi ed emozioni differenti dalle nostre terzo elemento ma fondamentale sul quale andare a costruire tutta la nostra narrazione è appunto il disegno dell'esperienza senza avere questo disegno davanti rischieremo di imbatterci in una serie di errori che sono quelli classici ai quali assistiamo ovvero ad esempio la creazione di contenuti digitali solo per il digitale e questo non ci porta niente perché perché il nostro obiettivo non può essere aumentare il numero di follower aumentare il numero di commenti e di mi piaci il nostro obiettivo fondamentale deve essere quello di vendere le nostre camere per il soggiorno migliore per il nostro ospite ideale e dunque partendo da questi presupposti riusciremo a creare i contenuti più efficaci più ingaggianti e soprattutto quei contenuti che potranno influenzare in maniera positiva il nostro ospite e portarlo a diventare appunto lui stesso autore della nostra narrazione siamo dei narratori dobbiamo narrare il nostro brand la nostra identità dobbiamo costruire la nostra immagine ma oggi lo dobbiamo fare in una narrazione corale ovvero dove siamo noi che in parte guidiamo questa narrazione ma dove la narrazione di tanti altri ospiti ci permette di diventare migliori agli occhi delle altre persone che ancora non ci conoscono e soprattutto questa narrazione ci permette di raggiungere tutta una serie di persone potenzialmente interessate a noi che in altro modo non avremmo mai raggiunto e dunque ecco che la creazione la il design delle esperienze quindi l'esperienza stessa deve diventare il punto di partenza da dove poi sviluppare la strategia i contenuti le azioni le scelte e naturalmente le valutazioni quali sono quegli aspetti fondamentali che non devono mai mancare innanzitutto non deve mai mancare la consapevolezza del fatto che tutti i nostri strumenti che abbiamo a disposizione quindi dal sito internet al blog ai social network sono degli strumenti attraverso i quali noi vogliamo raggiungere un obiettivo e questo obiettivo è la vendita del soggiorno la vendita del soggiorno il più coinvolgente il più ricco il più impattante possibile sull'ospite che noi andremo ad avere e a coccolare all'interno della struttura soprattutto quando parliamo di attività di quattro stelle superior cinque stelle dove il lusso e dove l'attenzione per il cliente deve essere altissima questo vale però per qualsiasi tipologia di struttura perché anche un tre stelle deve avere l'attenzione per il cliente e dunque deve avere le stesse caratteristiche ovviamente scalate in maniera differente rispetto ad altri dunque chiunque affronta questo tema chiunque sta lavorando per costruire l'immagine l'identità e la strategia migliore per la vendita delle camere non deve dimenticare questi aspetti e questi elementi dunque pronti a partire foglio davanti con penna per annotarci tutti quegli elementi strategici fondamentali che ci devono aiutare e supportare nella costruzione migliore della strategia stiamo parlando di visual storytelling e dunque di una strategia visiva che lavora sull'emozionalità e quindi sull'empatia sulla relazione che si deve creare con il nostro utente ospite e brand ambassador e deve focalizzarsi su due elementi il primo elemento è quello dell'engagement engagement emozionale dunque empatia deve essere la nostra guida l'empati map quindi quello strumento che ci permette di lavorare con il design thinking verso il nostro ospite deve essere un elemento sul quale lavorare costruire analizzare pertanto primo aspetto devo conoscere il mio ospite mi devo focalizzare su una nicchia su un ospite su una tipologia specifica in maniera tale da ottimizzare tutti gli sforzi nell'analisi nella ricerca nella comprensione nella costruzione della relazione di tutte le informazioni di cui necessita e naturalmente avere il maggior numero di risposte da parte di questo target affinché tutti i miei contenuti possano migliorare di giorno in giorno proprio perché testati su questo tipo di target dunque più io ho una nicchia di riferimento maggiori sono i risultati maggiori sono gli elementi scalabili che io posso generare quindi conosco il mio target e riesco a raggiungerlo più velocemente possibile riesco ad interagire e quindi ad accorciare i tempi decisionali sempre di più e dall'altra parte recupero tutta una serie di informazioni sempre più utili che mi permettono di accorciare ulteriormente il tempo di dare di anticipare delle risposte perché perché so esattamente quello che vogliono quello che cercano e anche ho la loro visione che mi permette di migliorare il mio contenuto nel visual storytelling ovviamente l'estetica fa da padrone ovvero tutto quello che è il percorso visivo che io sono in grado di generare nel migliore dei modi ma attenzione nel modo più leale trasparente possibile perché perché grazie a questa narrazione leale il mio cliente quindi il mio utente che diventa ospite non avrà mai una delusione e dunque riuscirò sempre a rispettare e a restituire risultati interessanti efficaci e corretti alle sue aspettative quindi ispirazione estetica influenza estetica come linee guida di quegli elementi emozionali che ci portano a scegliere questa struttura voglio essere parte di questa struttura voglio che questa struttura sia all'interno del mio feed quindi non è semplicemente il racconto dove sono e che cosa sto sperimentando ma addirittura voglio che quelle immagini che io sto vedendo diventino parte dei miei contenuti parte del mio feed parte delle mie narrazioni quindi parliamo di effetto wow sì sicuramente all'interno del disegno dell'esperienza l'effetto wow mi permette di andare a focalizzare su quegli elementi a valore aggiunto che mi possono portare a definire tutti quegli aspetti e tutti quei contenuti che in maniera costante e reiterata fanno percepire al mio utente di desiderare di essere lì e di sperimentare quella cosa non solo sperimentarla ma anche di volerla poi condividere con altri e dunque trasformarlo in brand ambassador questo brand ambassador quando avviene avviene anche durante l'esperienza dell'ospite ma se guidata correttamente se influenzata e quindi parliamo di influencer marketing che non è solo l'influenza che viene da chi influenza appunto di mestiere di professione fa quello la sua nicchia ma influenza che io devo essere in grado di creare nei confronti della mia nicchia quindi tornando al target e tornando alla fondamentale analisi di una nicchia di partenza e dunque la scelta di a chi mi rivolgo per costruire questi contenuti diventa ancora più fondamentale perché perché laddove io ho la nicchia ben definita che già sto coinvolgendo che già sto influenzando sarà molto molto più facile allargare quella nicchia proprio anche attraverso l'inserimento di figure esterne che dialogano con quel tipo di target e dunque che mi permetteranno in maniera eh efficace graduale e significativa di allargare proprio quella nicchia e renderla sempre più eh ampia ma con autorevolezza con lealtà con rispetto e soprattutto permettendo a ciascuno di ingaggiarsi in una conversazione esempio se il mio hotel ha una caratteristica importante legata per esempio a eh elementi naturalistici come può essere un'oasi tropicale dove al suo interno è collocata la piscina d'autore io vado a valorizzare tantissimo questo elemento e quindi eh lo racconterò attraverso tantissimi punti di osservazione che sono quelli dell'ambito naturalistico del relax del lifestyle del lusso se ho una serie di servizi che mi permettono di raccontare di tutti quegli elementi che io a livello di servizio posso garantire in quell'ambiente e dunque non lo racconterò sempre attraverso un unico punto di osservazione ma comincerò a scegliere quali sono gli elementi che permettono al mio target alla mia nicchia di scegliere quel luogo e quali sono tutti quegli elementi che influenzano la sua scelta andando ad analizzare tutti questi aspetti avrò tanti punti di osservazione del mio ehm argomento principale che andrà a rafforzare la mia identità quindi io sono tutta una serie di servizi tutta una serie di leisure ma sono esattamente quel luogo in cui tu vuoi entrare per rilassarti per vivere quell'emozione per vivere quell'atmosfera che online non potrai mai vivere e dunque desidererai essere all'interno di quel luogo per raccontare la tua esperienza per esserne il protagonista e dunque per fotografare quelle piante quei fiori quella piscina d'autore quell'atmosfera con la tua particolarità con il tuo punto di osservazione con la tua personalizzazione e questo avviene sia in funzione dell'ospite per cui io creo un'attenzione in funzione del mio utente e lo porto a voler esperire ad avere quell'engagement così alto che mi fa dire voglio andare lì secondo aspetto lo vado a fare eh anche con eh figure eh in grado di influenzare perché perché desiderano vivere quelle esperienze e raccontarle alla loro nicchia e questo non significa che dovranno venire ospitati dovranno venire ci sarà un'influenza di mercato laddove tutti professionisti lavoreranno in funzione dei loro obiettivi eh di vendita e dunque questi sono appunto degli elementi eh fondamentali abbiamo da partenza che riguarda un engagement eh emozionale e dunque di una tipologia di contenuti e un engagement dal punto di vista estetico qui appunto entriamo nell'ambito del formato quando parliamo di hotel quando parliamo di storytelling eh di un hotel e quindi di una narrazione di quelli che sono gli elementi strategici non possiamo non focalizzare la nostra attenzione su un formato visivo io ti devo raccontare esattamente di che cosa eh ti sto parlando te lo devo mostrare e dunque ti devo coinvolgere visivamente per farti entrare in un determinato mood questo mood ci porta quindi ad una prima riflessione una prima riflessione che riguarda ancora una volta il business quando noi stiamo parlando di eh visual storytelling dell'hotel parliamo di un obiettivo di vendita ancora una volta io insisto su questo aspetto perché molte volte eh l'errore più comune è quello di focalizzarci sulla bellezza dei contenuti è vero che viviamo in una eh in un'epoca di eh estetica e soprattutto anche di una narrazione più che narrazione estetica è spettacolarizzazione dell'informazione spettacolarizzazione del contenuto però attenzione abbiamo bisogno di focalizzarci su un aspetto fondamentale il nostro obiettivo non è aumentare eh i mi piace aumentare il follower il nostro obiettivo è attraverso questi strumenti andare a da fare acquistare il pacchetto di soggiorno e più il nostro pacchetto di soggiorno è lungo ed articolato più sono i nostri risultati e più questi ehm elementi legati al servizio all'atmosfera eh alle modalità di interazione di attenzione per il cliente saranno efficaci maggiore sarà la promozione che ne eh riceveremo quindi la recensione positiva quindi eh le storie su Instagram e il tagging corretto della struttura l'inquadratura che viene in qualche modo influenzata da quelli che sono le nostre immagini quindi ah ho visto queste foto bellissime queste inquadrature la voglio anch'io voglio essere lì e dunque attenzione che il business è fondamentale a proposito di business abbiamo l'analisi dei costi l'analisi dei costi deve essere alla base ancora una volta del disegno dell'esperienza perché non possiamo pensare di disegnare questa esperienza straordinaria lanciarla con dei contenuti di altissima qualità altissima professionalità quindi mi avvalgo di un'agenzia eh straordinaria dove ho servizi fotografici servizi video assolutamente impattanti uno storytelling sui social che magari mi dura un mese solo per il lancio e dopodiché faccio io faccio io con una discrepanza eh visiva e naturalmente a livello di engagement altissima che attenzione può essere davvero controproducente quindi elementi fondamentali che non devono mai mancare oltre al disegno dell'esperienza è la verifica e la valutazione della fattibilità di questo tipo di esperienza di questo tipo di sviluppo di contenuti sui quali poi andare a costruire esattamente quegli elementi che mi permettono di sviluppare e raccontare in maniera costante in maniera coerente a medio lungo termine quindi senza cambi repentini di immagine perché altrimenti abbiamo veramente dei rischi importanti questo che cosa significa non significa non mi avvalgo dell'agenzia non significa non scelgo un professionista per le fotografie non scelgo un professionista per i video ma significa vado a scegliere quella tipologia di qualità professionale che mi serve per il periodo prestabilito oppure per lo strumento di riferimento quindi lo vado a fare sul sito internet quindi lo vado a fare per l'immagine di copertina e quindi vado a creare e a sviluppare tutto quello che è il mio concept e tutta la generazione di contenuti su un trend che non si distanzia che non genera delle criticità così mastodontiche come si vede attenzione però anche a lavorare in maniera leale su quelle che sono le immagini che noi scegliamo come più rappresentative quindi non dobbiamo generare il rischio di ah ma me lo aspettavo diverso ah ma su internet sembrava e invece ecco dobbiamo essere il più realisti possibile più verosimili il più leali nella costruzione di questo rapporto perché perché l'emozionalità del nostro utente che diventa ospite è fondamentale per permetterci di dire fantastico l'ho visto voglio esserci esattamente è come me lo immaginavo no ma è ancora forse più bello di come me lo immaginavo perché viverlo è ancora più emozionante e infatti ricordiamoci sempre che il digitale è bellissimo ci offre tantissime opportunità ma attenzione che l'esperienza diretta va a lavorare su emozioni che sono differenti e dunque ricordiamocelo sempre più siamo leali più riusciamo a coinvolgere anche offline maggiori saranno i risultati a livello omnicanale con questa lezione ti ho raccontato un po' di cose e ti ho fatto riflettere su alcuni punti che magari stavi trattando in maniera diversa o addirittura su una serie di costi non avevi fatto le tue valutazioni dunque ci vediamo in un prossimo video e naturalmente non mancare di eseguire tutti gli esercizi che ti vengono consigliati buona lezione